Termina con la vittoria dell'Inter questa partita di Serie A di ieri contro il Milan, infatti è stata Inter-Milan, dunque l'Inter ha giocato in casa e il Milan invece fuori casa. A segnare questi due gol sono stati nel secondo tempo entrambi Lukaku al 72 minuto di gioco e Christian Eriksen al 90-7 minuto di gioco, invece a segnare l'unico gol per il Milan è stato Zlatan Ibrahimovic nel primo tempo precisamente al 31 minuto di gioco. L'Inter non ha saputo cogliere le palle mettendole dentro, soltanto una riuscita a infilarla dentro, ma è stato un Milan piuttosto spento, piuttosto opaco, opacizzato da una non voglia di mettersi in gioco e una non voglia di catturare i momenti più importanti per andare a segno e per vincere una partita che effettivamente parlando era a mio avviso piuttosto importante per lo stesso Milan. L'Inter dunque vince, stravince, ce la fa, gliela fa, insomma come si dice qui a Roma e riesce a ottenere una meritata vittoria. Complimenti all'Inter, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, un saluto caro italiano, tornato italiano.